Il padre dell'assassino di GioGio, che ha fatto pure le sceneggiate, pentimento, anche io ho sbagliato, ma mio figlio non sbaglierà, ieri si è presentato, mentre stava facendo un'azione contro gli ormeggiatori abusivi legati alla camorra, si è scagliato contro di me, mi ha insultato, io non l'avevo riconosciuto, a un certo punto lui si può fare, tu hai capito chi sono io? Sono Baldi, con l'orgoglio di essere il padre di un assassino criminale. Questa è la gente che noi teniamo per strada, io chiedo agli assistenti sociali di intervenire su quei bambini, perché quei bambini mi hanno fatto il segno alzato perché Baldi padre gli ha insegnato a odiare le istituzioni, a stare dalla parte della camorra, quei bambini diventeranno gli assassini e camorristi di domani e vanno fermati con tutte le nostre forze. Bravi, la piccola festa, la bambatista cucolosi, finita male!